Sì, siamo contenti, erano tre punti importanti, uno scontro diretto per il playoff, quindi siamo contenti. Peccato il secondo set con un po' più di attenzione, potevamo farlo nostro, perché la partita per il resto l'abbiamo giocata bene con continuità. Il secondo, come al solito, tanti errori in contrattacco, murate, errori un po' gratuiti, però siamo contenti perché alla fine i tre punti li abbiamo presi noi.